La Mondadori investe su Sala Consilina, dove trova terreno fertile per la cultura. Inizia nel modo più propizio la primavera nella città capofila del Vallo di Diano, grazie all'imminente apertura della libreria Mondadori nella centralissima via Mezzacapo. L'appuntamento è fissato per giovedì 4 aprile alle ore 18, quando il titolare Antonio Lullo taglierà il nastro del nuovo bookstore che, come nella tradizione delle librerie Mondadori, si caratterizzerà non solo come punto vendita, ma anche come punto lettura e come luogo di socialità aperto a variegate iniziative. Credo che sia un segnale importantissimo che la Mondadori abbia sondato il territorio e sia venuta ad investire a Sala Consilina. Quando io ho incontrato la mamma del responsabile, Antonio Lullo, in un evento che non aveva nulla a che fare con la Mondadori e mi ha detto che la Mondadori aveva puntato Sala Consilina per poter aprire non un punto vendita, ma anche un punto lettura all'interno del nostro territorio, via Mezzacapo, della nostra cittadina, sicuramente per noi è stato un motivo di grandissima soddisfazione, perché credo che a Sala Consilina, nell'ambito di un processo più generale, la libreria fosse un altro tassello importante per completare quello che è stato il disegno fin dal primo giorno della nostra amministrazione. Sala Consilina, la sua amministrazione, ha investito tantissimo nella cultura, tanto è vero che noi abbiamo creato un polo culturale che è stato completato con il teatro e con l'antiquarium, oltre alla nostra biblioteca e all'auditorium. Credo che la cultura sia molto importante non solo per lo sviluppo sociale del nostro territorio, ma anche da un punto di vista economico. Credo che creerà sicuramente indotte. Molta gente, cioè incuriosita, perché sta vedendo che si sta allestendo questa libreria, sta entrando, si complimenta perché credo che fosse un tassello importantissimo per lo sviluppo del nostro paese. Ringraziamo la Mondatori e per essa Antonio Lullo che ha creduto in Sala Consilina. Noi ci punteremo tanto, cercheremo di dare tutta la logistica possibile perché questa idea possa svilupparsi ed ampliarsi nel nostro futuro. È un invito alla cittadinanza di partecipare a tutti gli eventi che la Mondatori potrà organizzare nel futuro. La decisione della maggiore casa editrice italiana, che è anche una tra le principali società europee nel settore editoriale, di avviare un progetto importante a Sala Consilina, rappresenta un segnale significativo, indicativo di una positiva inversione di tendenza rispetto agli effetti della crisi, che negli anni scorsi hanno causato chiusure di negozi e attività commerciali anche nei comuni delle aree interne della provincia salernitana. Il Vallo di Diano è stata un'ottima scoperta perché comunque abbiamo notato che c'è bisogno di una libreria e tutto quanto. Per me è una zona comunque ricca di cultura, non conosco ricca economicamente, però secondo me è ricca molto di cultura e aveva bisogno comunque di un punto vendita a Mondatori. Questo è un progetto di Mondatori di aprire una libreria in questa zona, essendo uno dei comuni più grandi, un po' capofila di tutto il Vallo. Hanno scelto il Vallo di Diano perché comunque hanno visto che era una zona scoperta, mi hanno proposto di fare questa nuova apertura e io ho accettato con piacere perché conoscevo la zona del Vallo di Diano e conoscevo anche le potenzialità che ha. Sicuramente sarà un grande successo. Io vi aspetto il 4 aprile alle ore 18 per brindare insieme e per farvi conoscere la cultura anche di Mondatori perché ha un modo particolare di approcciarsi con i libri e anche con il loro layout e tutto quando vi aspetto.